una nocerina tutta nuova riesce a superare con non poca sofferenza il budoni i sardi in dieci dalla metà del primo tempo ergono una barriera davanti al proprio portiere che complica la vita ai padroni di casa più del dovuto la risolve liurni entrato dalla panchina con un gran gol che manda i molossi in orbita rivoluzione nello scacchiere rossonero esposito contro il budoni vara la nocerina spuntata cambiando 7 undicesimi rispetto ai titolari schierati nella trasferta di civita castellana contro il flamingia in difesa rientra dal primo minuto capitano garofalo centrocampo completamente ristrutturato con tuninetti e vecchione al posto di uliano e basanisi in attacco tridente inedito composto da guida e il bac taui e caccavallo non si sbottona il tecnico del budoni che pensa prima a non prenderle schierando un 3 5 2 che all'occorrenza diventa necessariamente un 5 3 2 difesa e ripartenza questo è il motto degli ospiti che si affidano alla velocità di gueyè per la controffensiva al 23esimo gli uomini di cerbone si complicano la vita amodù già ammonito commette la seconda infrazione e il signor marangone lo spedisce anzitempo negli spogliatoi al 29esimo primo squillo dei molossi caccavallo dal limite impegna marano che non trattiene sulla sfera si avventa il bac taui che deposita in rete l'arbitro annulla per fuorigioco la nocerina al 38esimo perde il portiere titolare venturini colpito al volto da un avversario l'estremo difensore è costretto a lasciare il campo in barella al terzo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara caccavallo sfiora la rete con un velenoso rasoterra dai 20 metri è l'ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco ripresa che si apre senza alcun cambiamento nelle formazioni al 13esimo schema su punizione per la nocerina garofalo serve in area il bac taui che calcia bene ma è più bravo marano ad opporsi rischiano grosso i rossonieri al 21esimo lancioni lasciato tutto solo riceve palla dalle retrovie si invola verso fantoni ma è miracoloso il recupero di mazzei che si immola e riesce a deviare il tiro dell'attaccante sardo in angolo la nocerina reagisce nel modo giusto e trova il gol del vantaggio al 27esimo con il neo entrato gli urni che ruba palla al limite dell'aria e trafigge con un preciso sinistro l'incolpevole marano il budoni si affida ancora al lancioni al 37esimo che da buona posizione sfiora il gol del pari i molossi cercano il raddoppio e quasi lo trovano al 42esimo con una gran bordata dai 30 metri di garofalo che chiama al miracolo marano l'estremo ospite riesce con un colpo di reni a deviare sopra la traversa nei minuti finali il bulioni cerca l'assalto giusto per agguantare il pari ma sono bravi i molossi a stringere i denti e a conquistare la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico a presto a presto a presto a presto a presto